Torniamo a parlare della clinica Santa Maria delle Grazie, si è svolto ieri mattina un incontro tra il sindaco Carlo Barbieri, i consiglieri Toriani, Sartori e Gallotti in rappresentanza di una parte della minoranza ed il dottor Riccardo Manca, uno degli otto amministratori delegati del gruppo ospedaliero San Donato, proprietario del 100% delle quote della struttura sanitaria di Corso Rosselli. Premetto che questo incontro è stato fatto grazie di inserito ad un nostro ordine del giorno presentato in consiglio comunale che chiedeva appunto questo incontro. Questo per dirimere ogni malinteso sulla volontà o meno di questo incontro. Allora in questo incontro praticamente si è trattato con un amministratore delegato della società che ha acquisito la Santa Maria delle Grazie e si è trattato, si è discusso di quello che può essere il futuro, anche se sapevamo già che alcune questioni erano state definite. Per quanto riguarda i posti letto, praticamente l'amministratore delegato rispetto le nostre richieste che noi abbiamo ribadito peraltro in quell'incontro cioè quello di mantenere questi posti letto a voghera, magari attraverso una riconversione per posti, per posti acuti. L'amministratore delegato ha ribadito che secondo lui per ragioni relative alla non normativa questo non è possibile. Per cui purtroppo questo è stato un risultato negativo. Abbiamo però avuto un'apertura rispetto a quelli che sono gli altri servizi erogati dalla clinica cioè quelli relativi ad attività ambulatoriali varie rispetto alle quali l'amministratore delegato ha quantomeno garantita la possibilità di mantenere queste attività e rispetto alle quali una risposta verrà data dopo le valutazioni che farà l'azienda tra circa un mese. Per cui direi che l'incontro è stato parzialmente positivo anche se non totalmente rispetto a tutte le problematiche relative alla clinica. Durante l'incontro si è discusso anche del futuro dei dipendenti della clinica. L'amministratore delegato che era il dottor Manca ha ribadito che per quanto riguarda i dipendenti che hanno un contratto a tempo indeterminato con la clinica i posti di lavoro sono garantiti pur con un trasferimento in altra sede. Per quanto riguarda gli altri dipendenti che in realtà svolgevano vario titolo di attività nella struttura è evidente che bisogna attendere le risposte relativamente alla possibilità o meno di mantenere tutte o gran parte delle attività ambulatoriali. Questa mattina attraverso le pagine della provincia pavese il sindaco di Voghera Carlo Barbieri ha detto la sua sulla raccolta firme di Partito Democratico e di Italia del Rispetto definendola una strumentalizzazione politica dato che... Noi abbiamo, quando c'è stato richiesto di fare qualche cosa per la clinica perché appunto c'era il rifiuto di chiusura ed era una richiesta che veniva dai cittadini noi abbiamo volentieri, diciamo così, siamo volentieri attivati per portare avanti il discorso sulla clinica. Il sindaco Barbieri peraltro in quella riunione di tre giorni fa aveva dichiarato di aver seguito costantemente l'evoluzione della situazione da diversi mesi a questa parte evidentemente avrebbe potuto coinvolgere maggiormente tutte le forze politiche, i cittadini, le forze sociali per cercare di dare maggior peso a questa iniziativa rispetto alla proprietà nuova che appunto aveva manifestato e lui lo doveva sapere l'intenzione di chiudere parzialmente l'azienda, la clinica. Quindi evidentemente le critiche e le affermazioni del sindaco Barbieri credo che siano, ripeto, ingiuste e credo che lui avrebbe dovuto evidentemente assumere un'iniziativa differente e non quella di criticare le iniziative degli altri che evidentemente sono dettate dalle necessità e dai tempi che evidentemente a questo punto erano molto ristretti mentre evidentemente il sindaco se conosceva la situazione aveva molto più tempo a disposizione per cercare di risolvere e comunque di trovare una soluzione più positiva. Grazie a tutti.